La direttiva UE sulle case green rischia di trasformarsi in una maxi stangata per le famiglie con la spesa per le ristrutturazioni degli edifici privati che potrebbe raggiungere quota 108 miliardi di euro, lo dice il Codacons. Gli interventi di riqualificazione energetica previsti riguarderanno il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, pannelli solari con un costo tra i 35.000 e i 60.000 euro ad avvitazione. La direttiva UE rischia di determinare anche un terremoto nel mercato immobiliare portando ad una svalutazione fino al 40% del valore degli immobili non oggetto di lavori di riqualificazione. La direttiva UE